mercato fortissimamente mercato è un periodo intensissimo per il grifone con le trattative e non solo per il genoa notizia delle ultime ore rimbalzata senz'altro in maniera vigorosa in tutti gli ambienti rosso blu la trattativa con ruslan malinoschi che sta procedendo veramente alla grande a quanto ci risulta c'è senz'altro l'accordo tra l'olimpic marsiglia sua società di appartenenza e il genoa da segnalare che a questo punto manca soltanto l'accordo tra il giocatore e il genoa si sta lavorando sui dettagli insomma rimane ottimismo per una fumata bianca che potrebbe essere dietro l'angolo magari addirittura nelle prossime ore qualcuno già ipotizza che malinoschi possa essere presentato nella prepartita di genoa fiorentina sabato al luigi ferraris per la prima di campionato stiamo a vedere quello che sembra da più parti confermato è che il genoa comunque abbia fino a questo momento vinto se non sia in vantaggio sul resto della fornitissima concorrenza per accaparrarsi le prestazioni del bravo centrocampista ucraino dunque dicevamo in un primo momento sembrava ci fosse l'accordo tra il besiktas e il marsiglia però il giocatore voleva assolutamente rientrare in italia la prima squadra ad affondare il colpo è stato il torino che torino che poi è rimasto sempre sullo sfondo ma senza poi riuscire a chiudere la trattativa sappiamo poi che nei giorni scorsi si sono affacciate al tavolo di malinoschi sia il monza sia il bologna bologna che ha fatto retromarcia abbastanza in fretta in corsa dunque è rimasto il genoa è rimasto il monza ma insomma il grifone sembra essere in vantaggio dunque ribadiamo manca soltanto l'ok del giocatore siamo veramente alle sfumature ai dettagli le cifre di questa operazione che insomma va considerata un'operazione alla reteghi se non addirittura più pesante per le casse rosso blu si tratta di una formula con prestito con obbligo di riscatto sulla base di 12 milioni di euro da valutare quale sarà la lunghezza del contratto di malinoschi se 2 3 o addirittura 4 anni fermo restando che il giocatore ucraino fino a questo momento percepisce uno stipendio di 3 milioni di euro insomma e anche in questo caso possiamo leggere lo sforzo dei 777 partners che non stanno lesinando sforzi per costruire un grifone davvero competitivo dicevamo se nelle prossime ore probabilmente nella notte tra giovedì e venerdì ci sarà anche l'ultima fumata bianca malinoschi partirà con destinazione liguria e poi magari sabato mattina le visite mediche e domenica grande presentazione all'americana davanti al suo nuovo pubblico naturalmente vi terremo aggiornati in tempo reale per quanto riguarda la concorrenza degli altri insomma pare che l'ultimo baluardo sia quello del monza con galliani scatenato nel tentativo di accappararsi le prestazioni del bravo centrocampista ucraino ma ribadiamo il genoa dovrebbe essere in grado di avere anche l'ultimo ok da parte del giocatore continuiamo con le altre notizie del momento considerato che insomma è un quadro in piena evoluzione altro nome accostato al grifone è quello di miguel crespo centrocampista turco del fenerbace classe 1997 qui diciamo che vi riportiamo notizie piuttosto contrastanti in turchia praticamente considerano l'operazione crespo già fatta già completata a noi invece risulta in italia e soprattutto al genoa che è vero c'è stato un sondaggio nei confronti di questo centrocampista diciamo più che altro un regista c'è stato un sondaggio da parte del genoa ma insomma da qui a parlare di una vera e propria trattativa ce ne corre fondamentali saranno i prossimi giorni considerato che insomma crespo non ha proprio la valigia in mano dalla turchia considerato che questa sera è stato convocato per l'incontro di europa league tra la sua squadra il fenerbace e il maribor un profilo dunque senz'altro interessante però insomma la sensazione è che siano caldi più in turchia che in italia e a genova su questo nome altro nome molto caldo nelle ultime ore è quello di giovanni fabian che ieri sera abbiamo sottolineato sul nostro profilo instagram un nome molto molto gettonato ricordiamo che fabian doveva andare all'udinese nel pacchetto della trattativa di samarzic dall'udinese all'inter assaltata quella trattativa rimaneva il discorso di fabian in piedi con l'udinese ma insomma possiamo immaginare che i rapporti tra l'udinese e l'inter non siano più idilliaci e dunque il club nerazzurro sta guardando verso altre destinazioni in pole position c'è il frosinone sappiamo che proprio in queste ore c'è un tavolo di trattativa tra inter e frosinone per cedere il bravissimo giovane centrocampista 2003 reduce dall'ottima stagione con la regina dove ha realizzato otto gol in prestito secco alla formazione di di francesco d'altronde il genoa aveva soprattutto sondato il terreno non è mai riuscito ad affondare anche perché pare che l'accordo tra inter e frosinone sia veramente avanti ma insomma non si sa mai fino a che non c'è nero su bianco ricordo che naturalmente non potendo prevedere quando escono le notizie di mercato ricordo a tutti i nostri ascoltatori sempre di più che per non perdersi nessun aggiornamento potete iscrivervi al nostro canale youtube naturalmente selezionando la campanella mettendo il like così farete crescere il nostro canale e naturalmente avrete la notifica degli aggiornamenti appena sarà pubblicato il nostro contributo altro nome molto interessante qua non ci sono novità ma comunque nome che rimane d'attualità è quello di lorenzo colombo attaccante del milan in questo caso a noi risulta che in pole position ci sia il cagliari per il bravo attaccante reduce da un'ottima stagione al lecce nel campionato di serie a cagliari che sarebbe in vantaggio sul genoa perché ranieri potrebbe garantire addirittura un posto di titolare a colombo dopo l'infortunio di la padula cosa che non può assolutamente garantire il grifone nei confronti di colombo che verrebbe considerato una sorta di vice reteghi o al massimo si potrebbe giocare con due punti staremo a vedere diciamo che non è ancora sciolta la riserva della partenza di colombo dal milan milan che avrebbe bisogno di un attaccante in entrata per liberare il giovane attaccante detto di colombo passiamo al prossimo nome che riguarda paiac questa è una notizia veramente di giornata paiac ricorderete tutti il terzino del genoa gravemente infortunato all'inizio della stagione scorsa paiac che è in grande recupero ovviamente non può rientrare nei piani del grifone per quanto riguarda questa stagione e la sua destinazione più probabile al momento sembra il vari e il campionato di serie b dove paiac potrebbe trovare lo spazio che merita dopo il tanto impegno che ha messo in questi mesi ricordiamo paiac presente a moena nel ritiro rosso blu il mese scorso un paiac che sembra destinato dunque a raggiungere questa ambiziosa e prestigiosa piazza del campionato di serie b altro nome sempre d'attualità è valeri il laterale sinistro della cremonese vi abbiamo raccontato dell'interesse del verona per questo giocatore e insomma siamo andati un po a indagare come mai il verona è interessato a valeri se in organico a un giocatore come faraoni ebbene insomma facendo due più due magari anche confrontandoci con i colleghi veneti abbiamo scoperto che insomma la posizione di faraoni rimane totalmente fluida ricordiamo faraoni che sembrava il mese scorso andare al napoli con il trasferimento di rimbalzo di zanoli dal napoli al genoa poi non se n'è fatto più nulla anche perché insomma garcia gradirebbe avere zanoli al napoli ora sembra che la posizione di faraoni sia ritornata più fluida detto in parole povere faraoni potrebbe lasciare il verona e di qui la società scaligera non vorrebbe farsi trovare impreparata di fronte alla partenza di faraoni di qui il sondaggio concreto per valeri che potrebbe dunque lasciare la cremonese ricordiamo valeri sotto contratto fino al 2024 ultimissimo nome per questa carrellata di mercato riguarda diego demme centrocampista della napoli accostato al grifone nelle settimane scorse poi non se n'è fatto più nulla non si sono più sentite altre voci anche perché ci risultava che demme fosse interessato soprattutto a rientrare in germania per concludere lì la sua carriera nelle ultime ore però insomma il nome di demme viene diciamo inserito nella mega trattativa che dovrebbe portare gabrie veiga dal celta vigo al napoli e dunque demme potrebbe fare il percorso inverso e passare al celta vigo sappiamo che l'entourage del giocatore sta valutando questa prospettiva però insomma tutto ruota attorno all'operazione gabrie veiga al napoli e poi di conseguenza di rimbalzo anche l'entourage del giocatore prenderà le sue decisioni mi scrivete in queste ore come potrebbe giocare il genoa con l'ingresso di malinoski ebbene ragazzi cari qui ci sarà veramente ampio sfoggio di fantasia da parte di tutti considerato che poi bisognerà con grandissimo piacere inserire nello scacchiere d'attacco anche junior messias e insomma tutti quei colori che abbiamo invocato nelle ultime settimane per quanto riguarda l'attacco del grifone stanno arrivando in massa quindi aspettiamo magari un attimo l'ufficializzazione di malinoski per cominciare magari a mettere le pedine in campo certo è che malinoski rappresenta quel giocatore che manca tantissimo al centrocampo del genoa un attaccante diciamo di grandissima qualità di grandissima profondità di grandissima gamba di grandissimo tiro e soprattutto la spalla ideale soprattutto per quanto riguarda l'appoggio alle punte in questo caso insomma qualcuno già comincia a ipotizzare e assegnare un 3 4 3 con magari messias e gudmunson in appoggio a reteghi con un centrocampo a 4 dove spiccherebbe malinoski a fianco di ottimi pedalatori diciamo anche che nella positiva trattativa tra il genoa e il marsiglia per malinoski ci sono anche gli ottimi rapporti tra le due società ultimo esempio in ordine di tempo il ritorno al grifone di strotman proprio dalla società francese è tutto per questo spazio di mercato naturalmente se ti è piaciuto questo spazio puoi premiarci con un tuo like se vuoi ricevere notifiche in tempo reale soprattutto in questo periodo di mercato puoi iscriverti al canale abbiamo appositamente diviso tutto ciò che riguarda mercato dalla presentazione di genoa fiorentina che andremo a registrare nel corso delle prossime ore poi naturalmente potrete trovarla nei nostri canali soprattutto su youtube e instagram visto che le cose da dirvi sono senz'altro tante e volevamo diciamo dirvele nei tempi e nei modi giusti con dovizia di particolari grazie per l'attenzione naturalmente potete scrivermi sui miei canali per tutte le vostre considerazioni noi ci sentiamo tra pochissimo per un nuovo spazio per approfondire genoa fiorentina perché insomma il mercato ci piace tantissimo però insomma tra meno di 48 ore qui si comincerà a giocare per la serie a e per i primi punti con questo succulento genoa fiorentina che promette veramente tantissimo grazie per l'attenzione a prestissimo ciao